Il lavoro creativo e la ricerca dello staff tecnico ha creato dei complementi di arredo che racchiudono al proprio interno una funzione legata alla sfera della percezione sensoriale, quindi un benessere che arreda. Sono oggetti brevettati, pensati per la casa, ma che ben si collocano in qualunque ambiente. Abbracciano una vasta utenza, in quanto l'alta qualità di materiali impiegati è associata a costi contenuti di realizzo e a bassi consumi energetici.